Ciao ragazze, come state? Come sta andando questo periodo a casa? Io sto cercando di tenervi compagnia, soprattutto su Instagram e oggi sono felice perché mi è arrivata una bella cosa a casa che stavo aspettando adesso vi faccio vedere Ah ragazzi, vedete che meraviglia! Quando mi arrivano queste cose a casa, mi giuro sembro una bimba Adoro! Ma cosa c'è in questa bellissima scatola? Ora vi faccio vedere Ah! No vabbè, guardate! Allora mi è arrivato Dentro c'è il grembiule di Food Spring Adoro! Sapete che mi serviva un grembiule perché praticamente mi sporco sempre quando cucino e poi ci sono tante cose bellissime per le nostre colazioni Penso proprio che vi devo fare un video, vi devo mostrare qualcuna di queste ricette Facciamo così, vi mostro una di queste ricette, ve lo faccio vedere proprio all'opera Perché questo qua è il pacchetto colazione di Food Spring E dentro ci sono tutte le mie cose preferite che utilizzo per le mie colazioni Cioè tutte le mie colazioni preferite per stare in forma Perché ragazze, le cose stanno andando bene Restando a casa, veramente le cose stanno andando bene Quindi presto arriverà l'estate e dovremo tutti uscire di casa Quindi rimettiamoci in forma ragazze Forza, forza, positività E io adoro queste cose Questo pacchetto colazione di Food Spring è fantastico E la cosa bella è che dentro ci sono tutte le cose più buone Lo potete ricevere a casa Ci sono anche le ricettine Queste sono delle ricette in formato card Comunque se andate sul loro sito ne trovate tantissime di ricette Sia per dolci che salati Quindi questo pacchetto colazione voi lo potete avere scontato per tutta la settimana Con il codice colazione FSG Quindi badate bene questo codice Colazione FSG Vi darà il 20% di sconto per tutta la settimana Su questo pacchetto colazione Che praticamente vi viene a costare pochissimo E dentro ci sono un sacco di belle cose Ci sono le schede con le ricette Poi c'è il porridge buonissimo Appunto il porridge è la cosa migliore che potete preparare per la vostra colazione E questi sono buoni Perché dentro c'è tutto quello che serve Sono dolci, sono buoni Poi c'è il preparato per i pancake che io amo Questi pancake vengono soffici e buonissimi Poi c'è la crema buonissima La crema proteica, l'oro che io amo Poi ci sono i semi di chia che sono buonissimi Metteteli nello yogurt Lo mettete anche nel porridge dappertutto E fanno benissimo anche a mantenere il peso corporeo Il pane è proprio preparato per il pane Dato che non si trova farina e lievito in giro Questo qua è un preparato per pane che è dentro a tutto quello che vi serve Dovete aggiungere praticamente solo l'acqua se non erro E dentro c'è tutto Praticamente è un pane proteico Io l'ho fatto tantissime volte E veramente vi viene una bella pagnotta E soprattutto è anche integrale a cereali Quindi è molto molto sano come pane E poi ci sono questi Questi sono buonissimi Muesli Che praticamente sono dei cereali Sono buonissimi E li mettete nel latte, nello yogurt Quindi vedete quante colazioni potete fare Ad esempio col pane proteico Potete fare una colazione salata Con il prosciutto, col salmone Oppure anche pane marmellata Con i semi di chia li mettete nello yogurt Poi magari qualche volta fate una bella tazza di latte con i cereali Poi questa qua Anche da spalmare sul pane Appunto se fate il pane proteico Oppure i pancake Se fate i pancake con questo E ci mettete la loro crema Adoro E anche il porridge Quindi praticamente potete fare Tutte le migliori colazioni E seguire anche le loro ricette Che sono veramente top Quindi adesso metto il grembiule Subito una ricettina E vi invito ad andare sul sito di Foodspring Perché questo bellissimo pacchetto Lo pagate pochissimo Col codice colazione FSG Solo per questa settimana Quindi approfittate E fate le ricette assieme a me Grazie, guardate quanto è bello questo pacchetto Colazione Dentro ci sono un sacco di bellissime cose Anche la scatola è bella Infatti io penso che la Conserverò assolutamente Per metterci tutte le loro cosine E ci sono anche le ricette Questo è quello che voglio fare io Comunque ce ne sono tantissime Questo anche mi incuriosisce Il tossa, feta e pomodoro Fatto col pane proteico Questo è quello che vi dicevo Con lo yogurt La bowl Di yogurt e muesli Mettendo questi muesli qua E poi ci sono anche I fluffy pancake Che sono super sofficissimi Col burro da arachide Anche il loro burro da arachide È una bomba Veramente veramente una bomba Quindi ragazze Prepariamoci una bella ricettina Vedete ragazze Ve lo voglio far vedere anche dal sito Così capite meglio Questo si chiama Pacchetto super colazione Sul sito è già scontato Ma voi avrete un ulteriore 20% di sconto Quindi lo pagherete ancora di meno Col codice colazione FSG Però solo per questa settimana È valido Quindi dovete approfittare E potete scegliere voi tutti i gusti Ad esempio Il gusto del porridge O lo prendete alla vaniglia O al cioccolato C'è mio padre che mi messaggio Nel frattempo Alla vaniglia, al cioccolato I frutti di bosco Quello che volete Anche mele e cannella È buonissimo Vedete Stessa cosa Il gusto del muesli Potete scegliere La crema proteica Potete prendere questa qua Quella a doppio gu A bigusto Quella a latte Quindi Potete personalizzarlo E ricordate Di inserire il codice Colazione FSG Per avere un ulteriore sconto Li lo pagate veramente Rante pochissime Avete colazioni Per un esercito Eccomi qua ragazze Con il mio bel grembiolino Che vi giuro Amo tantissimo Tutto perché è nero Lo amo troppo Lo userò tantissimo Veramente mi servivo un sacco Comunque con tutti gli ingredienti Del mio porridge Che davvero Vi straconsiglio Pensate che Tutte le modelle Potremmo dire che Questa è la colazione Veramente delle modelle Per avere la pancia piatta Per stare in forma È veramente fenomenale il porridge Quindi provatelo Poi se vi abituate a mangiarlo Vi aiuta anche tantissimo A mandare di corpo Quindi A sgonfiare la pancia È buonissimo La ricetta Eccola qua Sta scritta qui Non so se riuscite a vedere Ed è super invitante Speriamo che riesca A farlo bello Perché poi La cosa bella È la decorazione di dopo Quindi 80 grammi di porridge E 160 grammi di acqua Questo porridge è buonissimo Perché dentro C'è anche Le gocce di cioccolato Ci sono vari ingredienti Che lo rendono Veramente buonissimo Io adoro le colazioni Vabbè Adoro per tutto Foodspring Però in particolare Questo pacchetto Super colazione Se lo prendete Veramente Vi farà mangiare bene Però stare in forma E poi potete variare Così ogni giorno A colazione diversa Diciamo che Il bello di questa quarantena È proprio questo Allora Andiamo a mettere L'acqua Avete visto Io utilizzo anche Questi qua Che sono i loro shaker Anche come dosatori Perché non sapevo mai Come misurare l'acqua Allora Devo mettere 160 In questo modo Riesco bene A dosare l'acqua Con questi Questi loro shaker Che io li uso Anche come dosatori In effetti Ecco Questa è la quantità di acqua Ok A questo punto Nella ricetta Ci dice anche una banana Però Purtroppo Non ce l'ho E poi Lo sapete Comunque Durante questa quarantena Cioè bisogna evitare Di andare a fare La spesa Per ogni cosa Piuttosto Magari se non avete La banana Potete anche mettere Una mela A pezzettino Un altro frutto O comunque Anche senza frutto Va bene Comunque Vi posso assicurare Che è buonissimo E la cosa bella Di questo porridge Che A differenza Della vina Semplice Questo è proteco Quindi ha anche La quota proteca Non dovete aggiungere Nient'altro È perfetto così Dopo aver mescolato Vedete che Lo dovete lasciare In posa Qualche secondo Qualche minuto 3-5 minuti E poi Farcire con la Con la crema Per ammorbidirla La crema La potete anche Scaldare a bagnomania Diventa ancora Più morbida Comunque ragazzi Vi dicevo La cosa bella Di questa quarantena È proprio Riscoprire il piacere Delle piccole cose Tra cui Secondo me Primo Su tutti Cucinare O che sia Cucinare bene O cucinare Una qualsiasi cosa Però veramente Cucinare bene Veramente Cucinare Quello che ti tiene Impegnato alle giornate Ti gratifica Un sacco Tipo io Sto iniziando A svezzare Anche Daner Quindi sto cucinando Anche per lui Sto cucinando Per Dario L'ho sempre fatto Però adesso Ancora di più Perché comunque Mangiamo sempre a casa Perché stiamo sempre a casa Quindi Veramente È bello Io di la verità Mi diverto un sacco A cucinare Perciò Vi voglio consegnare Consigliare questo pacchetto Perché Così Vi rendete utili Vi rendete produttivi No? Perché così sicuramente Non vi annoiate Io non mi annoio mai Vi giuro Perché ho sempre Un sacco di cose da fare Anche se mi preparo Una colazione Mi metto la Tabellina Vedete come si è addensato Si è addensato un sacco E si addensa ancora Vedete? Ok Inizio a prendere Gli ingredienti Per la decorazione Grazie ho messo Un po' della crema Questa qua Al cocco Buonissima Nel microonde Guardate è diventata Madò È diventata una meraviglia Super cremosa Bastano pochissimi secondi Poi voglio aggiungere I semi di chia Poi voglio aggiungere Anche i Wesley Questi qua Sempre Oh mio dio Sempre dall'appunto Dal pacchetto colazione Anche questi qua E poi voglio aggiungere Un po' di Anche questi Continitorini Sono loro Io li utilizzo Per conservare La frutta secca Un po' di granella Di nocciole Che ci azicca sempre Secondo me La frutta secca Ah e poi ci voglio mettere questi Questi li dovete prendere Se fate l'ordine Vi giuro raga Prendeteli Sono troppo buone Sono delle palline Proteinball Ma cosa sono raga Queste palline Cioè ma cosa sono Sono buonissime Provatele Veramente sono uno snack Buono E soprattutto Sempre sano Tutto quello che c'è Sul loro sito È sano Quindi veramente Andate sul sicuro Ok questo si sta Continuando ad andenzare Io vado con la mia decorazione Dovrebbe venire così Ma vabbè Sorvoliamo Però ci posso riuscire Oh mio dio Com'è bello qui Vabbè Proviamo Allora con i semi di chia Ragazze Possiamo metterli Fare una riga Così Ok I semi di chia Fanno benissimo Poi non so mai Così si dice Chia o chia Quindi però Comunque fanno benissimo Proprio a mantenere il peso A stare in forma Anche tutti i nutrizionisti Veramente ragazze Tutti i nutrizionisti Li consigliano Quindi E io li consiglio a voi Ok mettiamo un po' di crema Questa qua Al cocco Che è buonissima Ragazze Questa anche tipo sul pane Mamma mia Che cos'è E' una meraviglia E' troppo buona Quindi la metto un po' così L'amo Vi giuro Io la mangio anche così Perché è buonissima Ok Poi ci metto Un po' di muesli Quindi Da questo lato qua Mamma mia Guardate qua ragazze Questi sono i più buoni Prendete questi qua Sono i più buoni in assoluto Mi piacciono un sacco Sono super croccanti Li mangio anche così Li metto nel latte Nello yogurt Io giuro Sono veramente Veramente buonissimi Quindi faccio Una linea Così Si mettiamo così va Abbondiamo Di cereali Ma va che carino Sta venendo Dai Sta facendo bene Si metto anche un po' Di granella di nocciole Facciamo una linea Così Tipo centrale Di granella Mmm Se non avete La granella di nocciole Anche qualche noce Va bene E qualcuna di queste palline Vi prego Perché le amo Queste palline Dove le mettiamo Una Tipo bottoncini Due E tre No vabbè E' venuto carino Dai E' venuto troppo carino E' venuto più bello il mio Che l'oro No vabbè adoro Vi piace ragazze? A me piace un sacco Ragazze Ecco la nostra colazione Non ci resta che assaggiarla Ma veramente Non vedo l'ora Soprattutto perché Ho aspettato Non so quanto tempo Per fare colazione Assieme a voi Quindi veramente Me la gusto Con estremo piacere Mmm Buona 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 Ragazze Che cos'è il contrasto Di questo porridge Con la crema Al cocco E' qualcosa di meraviglioso Mmm Buonissima Ragazzi Poi volevo anche parlare Un po' con voi Sapere Come state affrontando Questa quarantena Io devo dire che Sto riscoprendo davvero Il piacere Delle cose semplici Stare in casa A me non è mai pesato Perché sapete Io amo stare in casa Lavoro da casa Posto con Daniel Quindi adoro Ma soprattutto Adesso ho tanto tempo Per dedicarmi anche a lui Oltre alla cucina Che è sempre stata Una mia passione Anche per dedicarmi a lui Che sto preparando Le pappine Ad esempio Volevo anche Che mi Magari mi davate Qualche consiglio Mmm Perché Diciamo che Non è andata Proprio benissimo Le prime pappine Daniel E' un po' stranito Dal cucchiaino Oppure lui E' un mangione Però Diciamo che La crema di riso Forse Non è la sua preferita Mentre invece La mela L'omogenizzato di mela Lo mangia molto Con piacere Comunque Questa colazione E' buonissima E vi giuro La farò Tutte Tutte Le mattine Anche perché Ripeto È un po' Rigelta tantissimo Anche per stare in forma Anche per avere La pancia aperta Io ho letto Un sacco di Di modelle Fanno questo tipo Di colazione Ho preso La pallina Questa qua Non potete capire Queste palline Come sono buone Buonissimo Anche la parte Con i semi di silla Lo sapete È molto buona C'è quel croccantino Vabbè Assaggiamo anche La parte Con i cereali Dovete provarlo Ragazzi Va tutto La quantità Che vi ho dato Scusate Una cosa Mi sono dimenticata A dirvi È super saziante Il porridge Comunque Andate su Do food spring Il pacchetto Super colazione Scontato Un ulteriore 20% Con il codice Colazione FSG Per tutta la settimana E fatemi sapere Se provate Le ricette Anche se provate Se prendete Questo pacchetto Potete fare Un sacco di ricette Il pane proteico I pancake Potete fare Il porridge Un sacco di cose Mi mettete Questi nello yogurt Quindi è veramente Super super Conveniente Questi Poi li mangiano Così È buonissime Quindi Spero di avervi fatto Compagnia Di avervi dato Un consiglio Perché è veramente Super super conveniente Soprattutto perché Un sacco di voi Mi hanno detto Che Stanno un po' Lasciando andare La dieta Stanno mangiando Un po' male Quindi Mi raccomando ragazzi Non mollate Che tra un po' Sarà estate Dovremmo uscire tutti Forza Positività Mi mando un bacio Aspetto i vostri commenti Mi raccomando Lasciate un pollice In su al video E ci vediamo Anche su Instagram Mi raccomando Ciao 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 Grazie a tutti.